buona giornata a tutti voi cari amici ecco mi trovo in questa giornata particolare del ormai verso la fine del mese di luglio sul sul monte lussari campo rosso dunque qui siamo al santuario della madonna di monte lussari un santuario chiamato anche dei tre popoli italiano sloveno e austriaco non siamo riusciti salire a piedi ma siamo saliti con la gabinovia come vedete ecco la state vedendo ed ecco piccolo campanile della chiesa ed ecco proprio la chiesa santuario della madonna di monte lussari dunque 1750 metri di altitudine e insieme a tanti pellegrini sto salendo anch'io le scale che portano proprio verso la chiesa ecco si può contemplare le meraviglie della natura queste montagne particolarmente alte ecco il paesaggio è molto bello e oggi siamo proprio il 23 di luglio e celebreremo la santa messa alle ore 12 di santa brigida compatrona d'europa piano piano stiamo salendo le scale per arrivare proprio alla chiesa santuario della madonna di monte lussari ed ecco questi